Paura in Svizzera. Un uomo ha aggredito con una motosega alcune persone nel centro di Schaffhausen, nel nord del paese, al confine con la Germania. Cinque i feriti, di cui due in gravi condizioni. L'aggressione, avvenuta nei locali di una filiale della compagnia assicurativa CSS, è una portavoce della società, ha precisato che due dipendenti sono tra i feriti. La polizia ha chiesto alla popolazione della zona di non uscire di casa, descrivendo il ricercato come un uomo molto pericoloso, alto circa 1,90 m, calvo dall'aspetto trascurato. Secondo gli investigatori, tuttavia, non si tratterebbe di un attacco terroristico. Il sospettato si è allontanato a bordo di un furgone Volkswagen Caddy Bianco con targa dei grigioni.